Grazie al controllo vocale, basta la voce per trovare una partita. Se scegli Sky Calcio, hai 7 partite su 10 di serie a team ogni giornata e 16 big match su 20, anche in 4K HDL. Così il calcio è ancora più bello. Chiamaci 020220, info su sky.it Mora, il gatto tigro a giro d'Italia. Ma no, basta fake news. No, non raccora storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca, per una pittibilità ordinaria. Monge il pet food che fa molto caro. Colesterolo? Chilo Cal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Chilo Cal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Chilo Cal Colesterolo, da Puffarum Farmacia. I programmi di Radio 1, pro le sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio dell'Emilia Romagna. Sono le 12, 10 minuti e 15 secondi. Ben trovati alla seconda edizione del giornale radio RAI dell'Emilia Romagna. da Pasquale Notargia come studio, Luana Mazza in redazione per il coordinamento, Dario Fabri in regia per la parte tecnica.